Ci dobbiamo aspettare intanto un omaggio enorme a Mozart, del quale quest'anno festeggiamo i 250 anni dal primo viaggio in Italia, quindi è un appuntamento e una ricorrenza importante. Nozze di Figaro è stata scelta perché è un'opera profondamente contemporanea, è un'opera che letta e in un determinato modo, come cercherò di fare, restituisce al nostro tempo delle situazioni, dei suggerimenti, delle cose che sono di fondamentale importanza per comprenderci e quindi è un'opera che al di là della musica, che è meravigliosa e gloriosa, ci racconta molto del nostro tempo. Il 2 luglio abbiamo in previsione il sogno di un ottimo mezz'estate con un bellissimo cast sul nostro palco del Varese Sense Festival, sulla Fontana dei Giardini e sarà un modo, non solo un bellissimo spettacolo, ma anche un modo molto nuovo di vivere questo luogo in cui siamo ospitati, giardini estensi e in qualche modo anche in senso allargato, non solo il palco sulla Fontana. Non rivelo altro e vi aspettiamo il 2 luglio.